allora chi sta sentendo il podcast non può vedere ma Ico si è appena connesso con un suo alter ego racconta racconta semplicemente ragazzi sono entrato abbastanza in fissa ultimamente con una cosa a cui non avevo dato peso ovvero la sed ant mi ci sono abbastanza chiuso e non faccio altro a giornate sentire quei pezzi cantare quei pezzi quindi si sta preannunciando un'altra summer set faccina triste speriamo di no non condivido quello che dicono è orecchiabilissimo è un salto nel passato della nostra vita scolastica mia moglie sta chiudendo le porte come se no no fai casino ciao ciao no ma non si sente nulla ti assicuro no tanto appunto stiamo registrando con un po' di qualità di merda la distanza è perché si è avverato quello che avevamo annunciato è vero giusto il podcast ci tocca farlo in zona rossa confinati ognuno a casa sua che in realtà te non sei in zona rossa sono io sei te quello sfigato il coglione che tra l'altro adesso sta diventando leggevo anche prato e provincia quindi è una catena prato pistoia poi c'è la zona della lucchesia che è ancora libera e viareggio rosso quindi è solo un questione di tempo prima che diventi ma viareggio è rosso perché è come la california cioè la gente va a fare gli aperitivi esatto poi ora c'è andato a fare il carnevale probabilmente no scherzo quando è? no è già passato tra Palma in Cali e Grigio di Milano e qui si ritorna a un'altra fase la fase culto comunque un salutone ovviamente a Danian e Teo un salutone a Fix che è ancora vivo e un salutone a come si chiama quell'altro? porca miseria addio c'è un lapsus Teo, Fix Fix e Plant 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 sì Pianta perché tra poco esatto torna tutto vedi sarà collegato alle macchine quindi sarà un vegetale no scherzo poverino anche con vi auguro ragazzi col film che andiamo a analizzare oggi Armo c'entra la pianta ci sono un po' di piante ush bene ragazzi allora siamo qua per questa terza terzo episodio di Keep on Rogan il primo podcast lo sapete tanto insomma non ripeterò questa cosa no no ripetilo deve essere una pubblicità lo slogan allora benvenuti a Keep on Rogan il primo podcast in Italia e forse del mondo sulla superstar canadese Seth e ora devo trovare il secondo esattamente Seth Rogan ora te lo dico basta ora ho tornato col computer qua Seth Aaron Rogan era semplice Aaron Seth Aaron Rogan e niente di cosa parleremo oggi Icom? oggi in questo episodio parleremo della parleremo del terzo film che finalmente vede una grande parte di Seth Rogan e che è 40 anni vergine 40 anni vergine quindi siamo nel 2005 ci stiamo piano piano muovendo in avanti nel tempo e abbiamo un po' di cose da narrare di questo film e direi di cominciare con la sigla sì sì a questo giro siamo stati più bravi dai non siamo uno davanti all'altro capito quindi è difficile cioè noi si lavora tanto anche guardando sì adesso io sto guardando perché è la finestra di casa mia che dà sul parcheggio sì io ho solamente davanti la schermata di Anchor con 4 minuti e 20 Armando Marchetti host e connesso Xen il mio compare dimmi cioè quindi mi sta dicendo Armando che non hai degli appunti davanti a te ho degli appunti sì sì ho una pagina ho una pagina sono bravo dai sì 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 sto io si giro ne ho fatte tre ah sì bene bene cazzo allora vai Ico lancia la sigla che poi si parte ok ciao a tutti i ragazzi sigla oh shit oh shit ho fatto tre pagine ma praticamente ho riassunto tutta la trama con delle cosine che mi hanno fatto ridere ma è utile fare questa cosa perché io se mi dovessi rimettere a pensare a come è strutturato il film magari mi scordo quale scena viene prima e quale dopo almeno ho dei punti da seguire quando l'hai visto questo film? per la prima volta andai al video VIP a Montecatini ok nella sezione commedia vidi una copertina che mi fece ridere assolutamente lo noleggiai e me lo guardai ma si parla tanti anni fa eh comunque tanti tanti anni fa e poi ovviamente nel corso del tempo l'ho rivisto tantissime volte perché è uno di quei film che ogni tanto fa piacere rivedere fa sta bene scusa sto mangiando un panino come? come questo panino è la solita merda che mi faccio io col tacchino e la maionese il tacchino le damer e la maionese sì buono e invece te quando l'hai visto la prima volta? io non me lo ricordo forse me l'hai fatto vedere te o comunque era già uscito cioè non l'ho visto al cinema era già uscito e ne sentivo parlare avevo visto la tagline che era più aspetti più diventerà duro e ho pensato madonna che fresconata e poi però ho detto perché non avevo mai visto niente di Apato niente di con Steve Carell niente con Seth Rogen era stato lì la prima volta che ho conosciuto Seth Rogen quindi la mia introduzione al mondo di Seth Rogen è stata con questo film e poi l'ho ribeccato dopo e ho ricollegato che era lui forse ho visto prima molto incinta o prima Superbad non me lo ricordo comunque ho lì da lì fatto il ricollegamento visto che ero lo stesso produttore ho detto senti del bello del genio è bravo e infatti guarda poi ne parleremo quando arriveremo a Superbad però effettivamente Superbad era un film che quando uscì ne parlavano tutti però io non lo vidi al cinema anche quello perché tendevo a pensare che fosse una una commedia di ricatto sì esatto quelle che magari appunto gli cambiano anche il titolo si rivelano delle cacate fondamentalmente sì che fosse una cosa un po' che imitava American Pie che voleva essere un po' troppo simpatica pur non essendolo e poi dopo una volta incappato in poi Superbad ma prima di tutto 40 anni vergine ho capito che anche lì c'era tanto cuore dietro c'era molto c'è un po' una cosa simile anche ad American Pie cioè ovvero questa cosa della pressione del trombare che è comunque un tema molto ricorrente sia per le generazioni di American Pie sia anche per l'uomo in generale per la figura maschile che c'ha sempre questa pressione di ansia da prestazione fondamentalmente e qua è proprio la cosa ribaltata rispetto a American Pie perché una persona che non è esposta al sesso non gliene frega neanche nulla ed è una cosa in cui io un po' scusate ho questo panino tra le fauci è una cosa in cui io un po' mi identifico anche cioè nel senso capisco ovviamente non a 40 anni perché ancora non ci sono però riavvolgendo il nastro di svariati anni anch'io quando mi sono esposto sembra di essere tipo dal dottore anch'io quando mi sono sono stato esposto effettivamente al mondo miracoloso del del sesso i primi approcci c'hai un po' quella sensazione che se va male è merda cioè proprio sei quasi scoraggiato di dire no non ci provo neanche più cioè non fa per me non sono fatto per questa cosa questo vale ma anche al di là del sesso proprio del genere femminile cioè dell'approccio all'altro sesso comunque al relazionarsi se una cosa vedi che non ingrana pensi sono io che faccio cagare sono io che sono incapace non sono magari non è una cosa che appunto fa per me come dire tipo si ho provato a imparare a suonare la tromba ma no non mi riesce e anche questa cosa poi tornerà della tromba vero comunque scorriamo un po' i nostri appunti qualcosa che ti sei scritto qual è la prima cosa che ti sei appuntato come comincia il film ovvero chi ci viene presentato ci viene presentato il protagonista che è un personaggio interpretato da Steve Carrell che si chiama Andy è un quarantenne un quarantenne è un quarantenne è un quarantenne che è un po' particolare nel senso la classica figura stereotipata quasi del nerd eterno bambino si quasi a me mi è sembrato quasi quelli otaku quei giapponesi super presi bene che hanno la casa piena sì una specie tra Sheldon e un giapponese infatti glielo dice anche Paul Rudd cioè no scusa Seth Rogen cioè c'hai più giochi te di un adolescente giapponese è vero e quindi questo personaggio la prima cioè la prima scena in cui ci viene presentato lui che si sveglia con l'alza bandiera cioè che cosa ragazzi quanti di voi ci si imbedesimano in questa situazione cioè mia moglie fa sì con la testa anche lei gli succede comunque oh ragazzi ci sono anche loro eh ci sono anche loro comunque io ho scritto morning boner come prima cosa freccia pisciare seduto è meglio dibattiamo questa cosa cioè lui pisce in piedi all'inizio lui all'inizio pisce in piedi nel senso perché si prende il pisello ritto e lo piega stile asta per centrare che poi è anche difficilissimo fa anche quasi male perché è come prendere un tubetto e piegarlo cioè non esce bene l'acqua capito è uguale la cosa che fa lui è doloroso quasi anche perché devi metterti una tipo a 45 gradi sì ti devi inclinare poi lui praticamente ha la testa appoggiata al muro non è proprio comodissima come posizione e poi sì come ho detto te è come una sistola piegata che insomma non fa passare quello che deve passare quando innaffi il giardino hai mai provato e dici cazzo esce male l'acqua che cazzo è e probabilmente c'è la sistola piegata il piede sopra di una suola della scarpa farcita di merda di dog e poi la cosa che mi ha fatto troppo ridere è che lui si sposta in bicicletta non ha una macchina ha una bici è anche una cosa bella nel senso in una città trafficata lui preferisce la mentalità green di spostarsi certo zero inquinamento zero emissioni è una cosa molto attuale molto contemporanea ma infatti questa cosa qui di lui è la cosa meno sfigata di tutte a parte il calzino che quello è molto bello e poi vabbè insomma la sua camera ovviamente piena di action figure roba di nightmare before christmas ho visto entro ho visto roba di mars attacks si si è proprio un cultore cioè cazzo è uno che che ha una passione e ne ha tante oltre a quella ha anche passione per videogiochi passione per cosa fa può fare il karaoke da solo i karaoke suona la tromba la tromba a me quella cosa mi ha ricordato è vero di american pie 2 ah una cosa che mi sono scritto io non lo sapevo è stato prodotto da set rogan questo film quindi poi vabbè insomma sempre apato anche carell ha scritto questo movie è stato questo film perché per la carriera di steve carell è stato tanta roba ma infatti ci sono tante cose che mi hanno rimandato a the office proprio persone che compaiono cioè tipo una per un personaggio c'è Pam che è un personaggio di the office che fa una comparsa ma tipo sullo sfondo sembra proprio quasi come se gente di the office l'hanno chiappata e ha preso parte così per supporto cioè proprio una cosa di famiglia quasi è sembrata e c'è una scena ambientata in un posto dove quando mangiano il cine in quel posto asiatico che cantano tutti quanti tanti auguri in cinese e praticamente quel posto lì è lo stesso lo stesso posto dove vanno a mangiare a the office il benihana lo pensa te allora me lo devo provare ma infatti per lì ho detto ma questa cosa mi è familiare poi riguardandolo perché l'ho rivisto sto film nel corso di questi giorni l'ho visto da me per prendere appunti poi tipo c'è stato un malinteso tra me e Kate perché tipo lei ha detto guarda Donnie Dark lo so a memoria riguardalo da solo e almeno così io mi sono scribacchiato tutto tanto sarei stato insopportabile non sarebbe stato bello vederlo e questo qui io ero convinto che Kate l'avesse visto recentemente quindi me lo sono visto da solo e lei mi fa tipo ma allora quando si guarda 40 anni vergine ah cazzo ma vabbè allora riguardiamolo e io me lo sono rivisto tra l'altro volato cioè fantastico e poi ho scoperto che c'era l'edizione estesa e mi sono rivisto anche quella cioè ho rivisto le scene estese e basta quindi mi illuminerai sì ma infatti quando l'ho visto sicuramente la prima volta ho visto la versione estesa perché tipo in dvd è uscito così e quindi io poi quando ho cominciato a conoscere Seth Rogen tutte le cose le cercavo sempre con l'edizione estesa i super bad la prima volta l'ho visto in dvd me l'ha fatto vedere jacopo e c'aveva il dvd speciale con tutti i minuti in più e quindi ho detto vabbè io sì sì le cose di con Seth Rogen io tutte unrated sì perché il bello è proprio nell'unrated sì perché soprattutto quando sono scene estese allungate così sono spesso scene improvvisate in più bellissimo ti spacchi da ridere quindi la figura di Andy lo capiamo che viene presentata un po' così un personaggio particolare un po' nel suo mondo però la prima cosa che ci fa capire che sessualmente lui è un po' particolare è il dialogo che c'è fra i vecchietti al piano di sopra quando lui esce di casa per andare al lavoro che dicono allora stasera c'è questa puntata di questo show mi raccomando Survivor tipo eh sì sì ce lo guardiamo e il vecchietto fa alla moglie questo ragazzo deve trombare cioè ha bisogno di trombare che poi è bello anche la moglie gli fa tipo anche te me lo devi dare un po' oh ma 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 fantastico e quindi lui va al lavoro che lavora in questo posto alla smart tech si chiama che è tipo un negozio di audio video un magazzino digitale di prodotti elettronici e qua compare Seth Rogen subito per me è stato quasi un trauma ero abituato che non arrivava mai non diceva mai un cazzo bam spunta a Cal Cal bellissimo tra l'altro il suo personaggio come è presentato con i tatuaggi chi è tra l'altro anche fisicamente in forma figo è figo qui Seth Rogen devo dire sì e infatti anche lui dice penso in una scena tagliata insomma in una delle scene estese fa un discorso quando parlano fuori nel parcheggio a lui e Steve Carell insomma lui gli dice tipo te non devi stare a sentire quegli altri devi saper parlare con le donne insomma dà anche dei consigli sensati è l'unico forse che dà consigli sensati in merito perché c'è Paul Rudd che praticamente è nella sed lui veramente è stato su Xen e quell'altro Jay è veramente il peggio proprio si fomenta da solo per dire tipo sì io ho l'amante sì io ho uno stereo il giorno a pensare a cosa fare cioè insomma è il player come si dice è il player bravo e tra l'altro c'è Paul Rudd e Steve Carell quindi come Anchorman abbiamo la riunione di questi due questi due amici che poi più avanti compare anche Champ una piccola parte ce l'ha anche Champ e lì sembra che abbia 90 anni cosa c'ha è l'anno dopo è l'anno dopo rispetto a Anchorman e sembra putrido poi c'ha tipo il gilet è proprio sembra uscito da un ranch che fa tipo mio figlio l'ho beccato che faceva delle cose con la sua compagna che sono proibite nel nostro paese sono illegali in Alabama tipo aveva una domanda sì come faccio a farle fare alla mia moglie oddio oddio è un grasso veramente veramente un merdoso vabbè non so che cosa gli possa essere successo comunque alla fine questo personaggio molto anche carismatico rispetto al poco che abbiamo visto finora e soprattutto rispetto a quello che verrà poi c'è uno stravolgimento ulteriore sì assolutamente infatti ah ecco cosa volevo dire che in questa scena tagliata lui a Carelli gli dice tutte queste cose devi parlare con le ragazze e poi gli dice guarda me cioè tipo io non sono bello obiettivamente però vado con le ragazze cioè riesco a avere successo non ti sei mai domandato perché perché so come parlarci capito quindi c'ha proprio questa personalità che è un tipo interessante non è obiettivamente figo però è figo hai detto bene è un tipo è uno di quelli che dici ma cosa ha quello lì ma non è bello però è un tipo mi piace è un tipo ci sa fare ci sa fare cosa fare comunque questa puntata la chiameremo ci sa fare ci sa fare oppure la chiameremo come ben sappiamo assolutamente dopo ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo allora facciamo un applauso a Seth per che ha inaugurato Houseplant la sua marca di guida l'avevamo annunciato l'avevamo annunciato noi prima perché tipo probabilmente esisteva già però poi è stata ufficializzata non so regolarizzata in California negli Stati Uniti come proprio una catena hanno lanciato il sito fanno delle cose assurdi tipo dei vinili di musica adatti per il vinile stativa il vinile indica no bellissimo per accompagnare il trip e poi tipo il coso l'accendino da tavolo che se te rogheni dice nella mia vita ho perso 159 milioni di accendini ma adesso non più perché questo coso è gigante e poi tipo lo puoi scoperchiare e ci fai tipo un un posacenere ci infili dentro il joint insomma guida gotta back and ready e va bene e va bene comunque se Trogan ci compare subito a inizio film sono passati boh dieci minuti neanche entra Carell a Smart Tech e trova subito il suo perché ci lavorano insieme sono nello stesso reparto se non erro loro sono tipo nel post vendita nel senso il ritiro merci una cosa del genere bravo infatti c'è il set che ha proprio non la pancera ma si dice il busto per sollevare carichi pesanti tipo un supporto lombare e appunto lavorano insieme in questo back office chiamiamolo così quindi mi immagino che uno compri il televisore va da loro con lo scontrino un po' tipo Aaronics e loro poi glielo caricano un macchino una cosa del genere sì 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 Carell è più quello da scartoffie sembra sì sì Seth Rogen fa il lavoro sporco e lui invece si occupa più della roba appunto scartoffie detto bene e la differenza tra loro si vede proprio anche a livello di dinamica perché comunque Seth cerca di conversare con lui e ovviamente non c'è incontro di vedute di nulla due pianeti opposti proprio cosa hai fatto l'altra sera lui non è andato a Tijuana e Carell cioè Carell mi ha fatto impazzire in questa scena qui perché è bravissimo a incassare cioè c'ha una faccia super sperduta c'ha questi tic mentre gli dice allora che cosa hai fatto volevo farmi questa insalata di che cazzo voleva farsi sì tipo una frittata una roba del genere e mentre parla fa questa cosa che tipo con la mano toglie delle briciole dal tavolo non so se ci hai fatto caso cioè proprio abbassa lo sguardo è mega in imbarazzo e Carell guarda è ottimo a fare queste cose qui e in The Office infatti c'ha tanto questo personaggio un po' disasciato me l'hai venduto troppo me lo devo vedere a questo punto lo devo vedere e appunto anche la prima battuta di Seth Rogen quella lì che dice sono andato a Tijuana con degli amici per vedere uno show di quelli dove si scopano un cavallo si scopa una donna però è stato brutto cioè non mi è piaciuto per la donna anche per il cavallo anche per il cavallo e sì e poi ecco quando dice questa frase qui ho pensato ok adesso è Seth Rogen cioè siamo nel pieno è sbocciato comunque è sbocciato il nostro set il nostro angelo comunque anche Carell ha il pollice strano ci hai fatto caso non ci ho fatto caso ora sì ora devi andare sul computer e cercare Steve Carell thumb thumb per me è quasi peggio di quell'altro e in The Office si vede tantissimo davvero? sì sì ma sembra più che altro che ci abbia l'unghia distrutta comunque io ci ho fatto caso perché c'è un'inquadratura di lui che prende il numero di telefono e il biglietto da visita della tipa e mi è sembrato strano ho detto madonna che mano bella che c'ha e poi ho detto no aspetta aspetta non ce l'ha così quindi era una controfigura della mano come Azulander c'è il tizio David Duchovny che fa vabbè comunque siamo al lavoro quindi chi c'è al lavoro al lavoro abbiamo conosciuto Andy già all'inizio conosciamo finalmente Seth Rogen nei panni di Carl e poi appare anche Paul Rudd Paul Rudd che è Dave che è David tipo sì che la prima scena in cui compare va dal capo lì della smart tech che si chiama Paula mi sembra sì e le dice le dice si sta lamentando e dice finalmente ho trovato il coraggio di dirti questa cosa dopo tanti anni che lavoro qua se non levi questo cazzo di DVD di Michael McDonald tutti i giorni va avanti io ammazzo tutti qua dentro quindi io tipo piglio una pistola e mi faccio saltare il cervello ammazzo tutto e tra l'altro mi è venuta anche in mente una cosa dopo che hai detto questa cosa due cose la prima effettivamente capita spesso che lavorando in posti del genere c'è anche la mia esperienza quando tutto il giorno senti le stesse playlist veramente dopo un po' non ne vuoi più però il problema è quando c'è solo una cosa e mi sono venuti in mente Nicolai in magazzini della musica che entri oddio 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 cosa mi hai ricordato dico madonna tutto il giorno era solo una canzone sempre quella lì sempre ti entri tutto il giorno io non so come cazzo facciano e poi senti ovviamente il casino della gente che prova le chitarre quello che fa tipo switch a me invece mi ha ricordato una volta che a Collodi facevano il cinema all'aperto da Villa Garzoni e praticamente misero si parla di molti anni fa ovviamente non era un cinema era un tizio che proiettava dei DVD quindi questa era la situazione vabbè comunque quindi era roba già uscita da mo bella bella iniziativa però era figo e una volta per farti capire di che anno sto parlando avevano messo chiedimi se sono felice di Alder, Giovanni e Giacomo e praticamente mentre la gente entrava si sedeva nelle seggioline così c'era il menu del DVD e il menu del DVD ovviamente è un loop e questo loop era questa canzone di Bersani non sei capace di assorbire la tua voce in pace non importa ho comprato una chitarra distorta e poi loop cioè c'era la dissolvenza in uscita e ripartiva la stessa cosa era proprio una sezione del ritornello sempre uguale e ti dicevo c'è la gente che stava iniziando a smattare credo ma come fai era lì cioè peccavano di organizzazione quantomeno leva l'audito si già bastava metterlo veramente in in muto cioè mettevi il loop però tenevi insomma vabbè conosciamo David e poi manca l'ultimo che è Jay che è questo venditore un po' bravo solo io che quando c'è una gnocca lui è il primo che la pionza sopra il piacione cioè quello che veramente ha un ego smisurato che poi si rivelerà non essere poi così smisurato però comunque quando c'è una fia lui la batte ecco poi c'è anche altra gente di contorno tipo il tizio indiano è sempre incazzato chi è non lo so chi è e che denti ha soprattutto cioè tra l'altro lui ritorna in Zack & Miri che fa praticamente la stessa parte secondo me lui è così nella vita è inferenemente incalzato non me lo ricordo Zack & Miri però loro hanno bisogno cioè sono tre amici e sono tre colleghi che a differenza di Andy si sono comunque hanno legato hanno creato un rapporto anche al di fuori del lavoro e stanno cercando un'altra persona per fare la poker night però non sanno chi cazzo chiamano quasi non vogliono neanche prendere luce Seth pensa sia un serial killer bravissimo esatto ho paura che sia un serial killer però comunque hanno bisogno di questa persona in più e c'è il primo contatto forse vero che ha in tutti questi anni viene invitato alla serata poker che si svolge all'interno del negozio chiuso e tra l'altro sarà l'inizio della fine per lui perché è lì che tutti capiranno c'è qualcosa che non torna nel momento in cui tutti si parlano di figa tipo ho scopato questa questo qui c'è le bombe e lui lì magari in imbarazzo si che lo vedi cerca quantomeno di entrare nei discorsi di integrarsi nei discorsi però non è proprio la sua gem si capisce che a serata finita poi gli chiedono dai parliamo un po' c'è Jay che dice mi sono scopato questa l'ho vista solo sdraiata cioè non so come come fare non l'ho mai vista in piedi cioè proprio a me ti giuro il livello mi sta veramente sul cazzo infatti ho detto guarda non l'ho neanche mai più visto quell'attore lì cioè meno male non lo so mi è venuto un odio gigantesco invece Dave e Cal vabbè Seth e Paul Rudd bomba infatti insomma si vede chi sono i veri i veri playa e quindi appunto Cal che dice io mi sono trombato questa qua aveva delle belle tette poi tipo è entrato il suo cane mi ha leccato il culo si si proprio le storie da Mayal Collins esatto quelle storie proprio che creano l'atmosfera nel film e poi invece c'è David che ha questa cotta che non riesce a superare la si è proprio la sua ex no che proprio lo vedi cambia completamente il registro e dice ma invece di parlare in Mayalate cioè una volta abbiamo fatto l'amore è stato come essere due anime che si univano cioè una cosa una cosa che cazzo dici dai che schifo cioè proprio dai è rovinato tutta l'atmosfera è quasi colpa di David se poi gli chiedono e viene fuori il discorso perché lui ammazza il vibe cioè parlando di Mayalate gli dicono dai su Andy ti prego via l'avessero mai fatto e lì tipo ah sì le tette belle sono andato con una all'inizio comincia a dire tipo voleva fare il sesso get down with the sex all day non sa neanche come dirle le cose è bellissimo e poi fa e dice sempre fuck me yeah me so honey me love you long time lo sapevo a me quella cosa lì mi ha fatto impazzire se non lo è impazzata quella lì sì cioè a costo di essere ripetitivo veramente carelle in the office c'ha queste uscite mega razziste senza che se ne accorga e sono allucinati vabbè non dico niente però c'è c'ha queste cose però è bello perché in bocca a lui si vede proprio che è uno completamente in imbarazzo che prova a essere simpatico e gli escono non ha il filtro gli escono delle cose dalla bocca e sono delle cose che veramente cascano in terra come una palla medica da 90 chili bello bello no diciamo decisamente non è la sua gem come hai detto te prima a proposito di gem vogliamo parlare di Ain't No Mountain alle tv io volevo spaccare volevo spaccare il televisore sì non ce la faccio più ecco ogni tanto anche i negozi la passano vorrei andare negli spogliatoi a piange vabbè dai non ti preoccupare dopo si fa un po' di air training comunque mi so corni ma non è questa la cosa peggiore che dirà Steve Carell eh no il problema è proprio quando gli dicono scrivi le tette come erano e lui fa eh ho toccato così erano delle belle tette ho toccato avete presente quando tocchi una tetta di una donna no che è tipo un sacco di sabbia e lì cade il cielo cioè anche io mentre lo guardavo la sapevo questa scena a memoria tutte le volte sono a sofferenza e penso no non dire cioè inventati qualsiasi altra cosa eh sì è proprio cioè mi è venuto in mente ti ricordi c'erano un periodo dove facevano delle specie di palloncini che le riempivi tipo con la farina non so che cazzo era sì capito e li deformavi che era quasi un antistress ma che tette hai sentito Andy e poi i di sabbia capito c'è il sacco di sabbia ancora perché quelle cose lì invece l'antistress cosa c'era dentro non mi ricordo erano più gommose sì non so se c'era della farina o se c'era tipo un gel dentro uno slime sì qualcuno erano con lo slime qualcuno con la farina come hai detto te però il problema di quelle è così come sacchi di sabbia cioè te ci metti la mano e strizzi poi ci rimane il segno quindi a meno che uno non abbia le tette fatte sai con quel materiale dei vasi di fiori cazzo che ci infili il dito dentro che ci fai sì bello non so come si chiama quel materiale scriveteci in chat lasciateci un messaggio vocale giusto raccontateci voi la vostra esperienza con le tette insomma vabbè ormai cerco qualsiasi modo per interagire con i nostri ascoltatori e quindi quando dice questa cosa ovviamente si rendono tutti conto che Jay è il primo che se ne accorgi dice aspetta fermi tutti dice stai bene nel senso non torna sei gay io non ho problemi ho amici anche omosessuali non hanno problemi in prigione e poi rispondi a questa domanda e povero Carell ti giuro è perso completamente perso lo vedi proprio ha gli occhi spiritati proprio è il suo incubo e gli dicono sì appunto ma te sei vergine e fa sì dai forse quando avevo dieci anni così è ancora peggio e capiscono poverino che è vergine e quindi lì viene fuori mi torna tutto la bro ship e dicono no cazzo ora ti dobbiamo far trombare sì e da lì cercano di portarlo ovunque per locali lo porteranno poi al data paluza insomma varie cose che vedremo ma il primo incontro tragico è quella specie di di locale dove appunto c'è Jay l'imbecille che gli consiglia cioè il grande consiglio è vai con quelle ubriache cioè va bene fatti arrestare subito e poi vanno effettivamente da quelle che fanno l'addio al nubilato sì quindi ragazze tutte prese bene ovviamente anche con quell'ansia un po' da la mia amica si sta sposando quindi mi ticchetta l'orologio biologico ho bisogno di sfogarmi ho bisogno di divertirmi e quindi è il setup giusto per cominciare a intrattenere un po' una conversazione e effettivamente Andy becca sì perché nel suo inconscio lui gli atteggiamenti e i contatti che ha con le donne non sono finalizzati poi a quelle quindi è molto rispettoso è rispettoso è empatico quasi quindi fa questo effetto qua e in questa situazione da di al nubilato secondo me è proprio la cosa perfetta cioè nel senso trova una figa che a parte è la moglie di già d'apato quindi questa cosa fa molto ridere è che è quella di molto incinta quella di molto incinta e praticamente la cosa che lei nota in lui è che ha gli occhi gentili e quindi ci si trova bene a parlarci e questa cosa in realtà andrà poi molto a favore di Andy quando imparerà un po' a conversare perché comunque essendo molto gentile molto ben educato eccetera se trova la persona giusta sa orientarsi a conversare quindi non soltanto devo infilare il cazzo c'ha delle armi a suo favore ha tanti argomenti di conversazione lui è il suo punto forte sicuramente è una persona brillante e profonda a un minimo ha un minimo di strati ecco come Shrek non come Jay però in questo caso lui è un po' nella merda perché Leslie Mann insomma la tipa è parecchio Brià lui non guida quindi si ritrova nella macchina della mamma di Baymar Gare vero e poi la cosa la Chrysler è la PT Cruiser sì la PT Cruiser e poi è assurdo che lei dice dai andiamo andiamo a casa mia mi piace e tutto vuoi guidare te e fa no io non guido ah va bene la guido io e quando gli dà l'alcol test gli dice eh il giudice mi ha raccomandato di averne uno in macchina io lì non ci ho gelato cioè immaginati questa metti di salute di T-Rex mettiti nei suoi panni cioè che non è un stupido ti rendi conto che sei in macchina con una sei in trappola con una che lo fa spesso questo ecco sì è recidiva un incubo spacca tutte le macchine cioè si fanno un incidente lei le vomita addosso cioè e lui alla fine in tutte queste situazioni cerca sempre di trovare il pretesto per poi non trovarsi a dover scopare con qualcuna in questo caso il vomito è che in un certo senso lo salva sì è vero che lui dice guarda io passo stasera sì che poi probabilmente chiunque sanno di mente avrebbe detto vabbè non è il caso esatto se no prendi tranne Ron di Barnard tranne Ron why'd you stop cazzo non vedo l'ora di parlare di Observe and Report puntata di 14 ore veramente eh sì quello sarà lunga e la mattina dopo abbiamo la prima vera signature risata di sette roves proprio quella hai ragione quando lui ti racconta tipo questa ma vomitata addosso ma che poi ci ammazzava e lui non mi riesce a fare la sua risata e poi però qui arriva un personaggio importante arriva il personaggio di Trish eh sì che è Trinkiner che a me mi garba cioè non so perché ma attira c'ha qualcosa di allora devo essere sincero Armo se ci avesse magari 15 chili in più ti direi di sì 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 no mi ti parlo a livello visivo ma attira cioè nel senso è uno di quei casi in cui quando la vedo in questo film vedo lei vedo lui dico sì cazzo cioè lei è proprio come anche sguardo come intelligenza dietro gli occhi nel senso si vede che c'è in potenza qualcosa di fattibile che può diventare qualcosa di importante e infatti io tifo tanto nel momento in cui arriva e quegli altri subito liberamente bros sì cioè si dicono no guarda io ho un appuntamento con un altro cliente no io non parlo inglese no hablo inglese e poi dopo ripassa e fa tipo muchas gracias no idolo anche secondo me lì sarà un po' improvvisato perché dai sì per forza e poi è ganso perché il primo dialogo fra Andy e Trish Andy non è un venditore quindi si ritrova in questa situazione però la sua nerdaggine se così la vogliamo chiamare lo aiuta in un certo senso poi a consigliare i prodotti perché li conosce e mi ha fatto morire quando lei vuole scegliere un registratore così gli dice lascia perdere questo registratore a cassette perché molto presto sarà una roba antiquata sarà una roba vecchia ma ti consiglia quello combo sì combo lettore dvd e anche registratore le ho pensato minchia mamma e questo era il 2005 quindi io mi ricordo nel 2007 nel 2008 a Roma quindi neanche capito in un posto che dici non trovo i negozi non trovo cioè proprio era una situazione in cui si voleva vedere una cassetta di un vecchio cartone animato che non si ritrovava più però non avevamo a portata di mano il videoregistratore quindi siamo andati a cercarlo per tutta Roma non c'era quindi solo due anni dopo per tutta Roma non c'era un negozio che vendeva un videoregistratore anche a poco cioè assurdo veramente pensa ora figurati ora no sì ora ma guarda ora forse trovi qualcuno su ebay che magari io ce ne ho uno in casa spero che non mi si distrugga perché se no non so come fa a salvare tutti i vecchi filmatini di merda e comunque mi fa troppo ridere ecco cioè quando parlano degli schermi della tv dicono ah guarda super realistico mi sembra che gli insetti siano qui con le immagini della natura cioè televisione di merda proprio sì lo vedi è vecchio true motion ecco tra l'altro se non l'avete fatto ragazzi andate a guardare il video che ha fatto Armo sul 4k sul canale di Non Solo Film in cui vi aiuterà sicuramente a capire meglio l'inganno che c'è dietro il marketing di oggi sui prodotti video grazie Fede prego e a questo proposito a parte vabbè cose molto belle tipo che vendono in questo luogo lo stereo uguale a quello tuo quello della Virgi sì era quello di Virgi quello che abbiamo in stanza e poi niente insomma sarebbe stato bello se ci fosse stato tipo un crossover con Fast and Furious dove rubano i lettori di VT come nel primo sei di recente visione vero sì 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 stupendo ragazzi cioè la saga più bella della vita veramente io però a parte gli scherzi ora faccio una parentesi la cosa che spacca di Fast and Furious e per cui dovreste tutti vedere Fast and Furious è perché Fast and Furious è più di quello che può sembrare cioè uno può dire tipo sì vabbè la classica cosa di macchine ma inizia così ma dopo un po' cioè non gliene frega più un cazzo delle corse di macchine cioè diventa una cosa tipo Mission Impossible sì e poi ci sono temi profondi di amicizia di famiglia di rapporto c'è il cuore è come questa serie di questo podcast che noi ci siamo affezionati a set e i suoi film perché c'è dentro il cuore c'è dentro l'amicizia c'è la family la famiglia salute e quindi niente stappiamoci una corona e celebriamo cazzo se non me la bevo io ti giuro l'altro giorno ho preso con Kate si è ordinato all'America Graffiti da ah ma perché fanno da sporto ora sì cazzo cazzo come non su Delivero non su Just Eat su un'altra cosa che si chiama Mr. It ma davvero ma c'è un'app c'è un'app cazzo magari consegnano anche qua può darsi perché ci siano un po' sparsi quindi magari comunque insomma questa cosa non è ovviamente sponsorizzata cioè non ci sponsorizza l'America Graffiti ma sarebbe bello Mr. It vediamo un po' guarda un po' cosa c'è tra l'altro una cosa che mi ha fatto mega ridere insomma ho ordinato le corone ecco tutto questo era tutto ah ho ordinato le corone sì 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 grande cazzo ho bevuto una e ero briao quindi vabbè Armo nel senso dipende come la bevi è normale se la bevi di gusto non ci stavo pensando al stomaco vuoto il primo passo verso l'alcolismo tutta questa situazione il pomeriggio veramente mi sono sentito un troiaio d'uomo invece hai fatto bene tanto che bisogna fare nel senso se un cazzo la fa ti dicevo una cosa che mi ha fatto mega ridere e che mi ha fatto anche un po' venire la lacrimuccia è che lei triscia questo negozio che si chiama we sell your stuff on ebay vediamo le tue cose su ebay lo si vede all'inizio anche per un attimo per un secondo lo inquadra però il coso di ebay cioè è una cosa ebay adesso è morto praticamente chi lo usa più ebay io veramente vedo della roba su ebay ma non lo so perché non mi viene assolutamente ad andarci a comprare la roba no non mi fido non lo so e lei ha questo negozio dove che alla fine è come un fondo tipo un magazzino lei prende le cose come si dice in italiano le accumula lì sì poi le mette su ebay e uno fa l'offerta e la compra sì quindi si occupa lei di gestire il profilo ebay per queste persone quindi c'è una commissione sì e c'è una cosa che nessuno farebbe adesso ovviamente uno dice voglio vendere una cosa va su depop va su come cavolo si chiama quell'altro per i vestiti vinted vinted va su amazon insomma la roba usata è una se gestisce da solo cioè va su marketplace di facebook che tra l'altro secondo me è una televisione eh sì però marketplace deve essere veramente una roba in questo momento che ci mette una cosa e la vendi subito cioè c'è un mondo dietro dipende sì c'è un sacco di roba ora sai poi dipende anche dal discorso covid sicuramente la gente poi si fa gli spot a cantine sì poi c'è la gente che quando esce un nuovo iphone vende subito quello di poco vecchio quelle sono i malati di tecnologia le fanno queste cose cioè le capite solo per avere l'ultimo l'ultimo modello che è lì che pigli le occasioni perché è roba praticamente nuova poi trovi anche gente che dice tipo vendo un iphone 5 al 300 euro la gente sotto ci rigida 300 euro e col cazzo comunque sarebbe come se aprissi un fondo dicendo tipo io ti vendo la roba a te su marketplace cioè ti entro su facebook e vi sono tipo io non so come si fa ma ci penso io per i vecchi era una cosa che magari allora poteva avere anche senso oggi chiuderebbe il momento in cui apre ma anche nel film ovviamente si capisce che anche l'altra gente pensa che sia una cosa abbastanza strana cioè sembra un po' borderline cioè secondo me è già allora un negozio giusto la gente come Jonah Hill ci può andare mamma mia sono morto a parte che era tipo non so una forma un pianeta allora era un pianeta sì è veraviglioso ti giuro l'avrei abbracciato che bello e quindi niente alla fine lui riesce ad avere il numero di Trish perché lei gli dice sì c'è un negozio qua davanti casomai insomma chiamami se hai bisogno e lui comunque ci si trova a parlare no? sì nel senso c'è un piccolo scambio riescono a parlare un pochino lui è anche relativamente tranquillo cioè sempre per il discorso che abbiamo fatto prima che non ci vede quella finalità quando parla con una donna e quindi sicuramente una donna come Trish che non è una classica sgualdrina una battoncina lo percepisce questa cosa cioè se ne rende conto che cazzo non ha a che fare con un cercopiteco con un dimorri incoglionito a differenza di delle sue esperienze passate sì ha avuto un rapporto con uno che beveva troppo insomma non esattamente un marito modello via e a questo punto però gli amici di merda portano Carel a fare un po' un makeover è questa scena assurda della ceretta che è vera penso anch'io che non è possibile che sia le sue reazioni sono vere a quello che ho capito infatti si vede che stanno morendo se Trogan non ce la fa quando lui ti offende la tizia sono una stronza che cazzo ridi poi è veramente assurdo il dolore che deve aver provato perché io l'ho fatto la ceretta l'ho fatta sulle gambe perché per gli incontri dovevo fare i massaggi e ovviamente i peli un po' come per i ciclisti sono scomodi perché ti impasti tutto e feci la ceretta fino all'inguine ma è un dolore che io le ho nel cuore tutte le ragazze che si fanno cerette contro cerette cioè come fai ma fa anche sul capezzo glielo fa ah ah stilcarelle cioè col sangue secondo me quel sangue lì è vero cioè non lo so no lo vedi lo vedi quando strappa il coso che dopo pian pianino si ma poi c'è il sangue vedi il follicolo del pelo che 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 c'è il sangue non è un trucco quello lì come cazzo ha fatto cioè solo per questo dovrebbe vincere un oscar si ma poi lui urla tantissimo cioè proprio gonfio di di dolore gli trema la voce un po' ride un po' piange e poi vabbè c'è si alza con la cosa fatta a metà e c'è questa battuta per la serie il doppiaggio ha rotto il cazzo grazie illuminami ho voluto ascoltare l'italiano e c'è un momento in cui lui dice tipo questo look non fa per me e poi il rad gli dice you look like a man o lantern no? si si che voglio dire ti come l'avresti tradotto in un doppiaggio sembra una zucca di halloween cioè non è difficile anche se non c'è il gioco di parole con jack o lantern meno lantern va bene sembra una zucca di halloween si capisce la traduzione è è un look da pancia sorridente non ci voglio credere cosa vuol dire non ci voglio credere vabbè vabbè sorvoliamo su questa cosa allora a questo punto Seth spiega il discorso del saper parlare con le donne esatto è qua che viene fuori la personalità di Seth cioè lui veramente penso che sia il personaggio più importante in assoluto in questo film si perché guida comunque nella giusta direzione il buon Carell tra l'altro nelle scene allungate cioè lui gli dice proprio io sono una persona te mi vedi così ma io in realtà sono una persona studiata nel senso io sto scrivendo un libro infatti si vede più avanti quando è lì che si fa la canna infatti che scrive a macchina e lui capivo dico boh si 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 lui aspira a scrivere un libro dice io appunto frequento la libreria con la libreria topa che è Elisabeth Banks ah mamma mia com'è buona era bellissima lì e tra l'altro ritornerà in Zack & Miri eh si è vero e come in Zack & Miri ci saranno sette lei che diciamo anche qui sette lei si alla fine bombano bomberanno ci arriviamo e poi lei anche ha fatto Hunger Games era già più matura però comunque è una gran topa cazzo si davvero poi è simpaticissima c'è proprio una tipa mi fa spicciare quando la vedo e c'è questa scena qua dove vanno in questa libreria e Seth Rogen gli dice appunto che deve ascoltare e fare domande fai domande e lui veramente vedi la bravura che è l'attore di Steve Carell che cioè veramente diventa cioè cazzo io guardavo e dicevo madonna come me lo tromberei vero lo vedi super come si dice confident perché non so parlare in italiano vabbè insomma hai capito si è è super sicuro di sé è super sicuro di sé e ovviamente questa cosa non l'ha specificata Seth Rogen però non è che funziona solo in questo modo cioè non è che solo facendo domande che te conquisti perché evidentemente lui ha trovato anche una ragazza che è un po' particolare cioè nel senso non è proprio lo diranno più avanti che è un po' di fuori è di fuori veramente e lui alla fine ha questo questo incontro qua con lei cioè lei proprio si vede che gocciola sì perché insomma è anche questa cosa un po' di chi è questa persona che mi è comparsa così in negozio questo tizio misterioso è quasi normale cioè dici che è sto stalker però lei si vede che è un po' cioè ha bisogno di questo tipo di persona cioè cerca proprio questo mistero questa cosa uno tenebroso uno non riesco a inquadrarlo e lattizza questa cosa e lui non dice niente cioè gli fa solo domande e ogni volta che lei gli fa una domanda gliela ribalta e gliela fa a lei e lei non sa più cosa dire e tutto è partito da Seth che gli dice quindi devi piantare il semino come quando io pianto il semino per l'erba e qui dice aspetta che il seme diventa una pianta e dopo e poi che grande e questa scena è esilarante veramente ho riso tantissimo io la cosa che mi ha fatto ancora più ridere cioè io venivo da questa scena e poi dopo c'è la cosa del masturbarsi cioè che lui non si masturba e quindi mamma mia come fa gli dà i pornazzi in cassetta tra l'altro che sega old school eh sì col pornazzo o è la compilation tipo raccolta delle migliori scene dell'estate del 2003 owner gems 2003 harry quater school of cock poi dico school of cock con jack black cock quindi torna jack black anche qui c'è questa cosa meta e poi c'è gli dici tipo ah sì poi c'è anche everybody loves raymond che è una serie tipo una sitcom ce l'ho messo perché boh è ganso una cosa tranquillissima infatti lui alla fine si mette a guardare quella perché è proprio a disagio con sì sì no ma mi ha fatto morire il fatto che cioè lo vedi che non le vuole non vuole questo box of porn cioè non è una cosa che lo fa stare a suo agio e però poi torna a guardarlo david si non glielo lascia va via così e lui dice vabbè preparo tutto e c'è la scena che accende le candele le candele la musica ti metti tipo la vestaglia cioè io se ogni volta che mi dovessi fare una sega dovessi accedere le candele e armo l'ichea va in banca rotta e tutte le volte ma finché altro in terra c'è tutto quanto sgocciolato di cera perché si le consumo tu e con la carta e con la carta e con la gianica e con il bagno in tasà comunque sì cioè io lo capisco anche nel senso che lui è talmente lo dice io le rispetto talmente tanto che non ci parlo neanche con le donne c'è proprio il terrore di parlarci di averci a che fare quindi anche la cosa del porno per lui è straniante proprio non gli torna non è la sua gemma no non è la sua gemma e nella scena tagliata c'è una parte dove lui si addormenta e sogna tipo una tizia puppona una porno star quella del film sì che praticamente gli parla soltanto che gli parla come parlerebbe Steve Carell quindi dice tipo voglio che tu fai tutto il sesso a me con il tuo pene nella mia e poi dice proprio vabbè no così non torna non so cosa dire no mi imbarazzo e si vede lei però tipo con le puppe di fuori con la voce di Steve Carell che la doppia bellissimo perché le ha levate queste cose sono quelle che ti fanno veramente qualcosa in più al film mi dovrò guardare su youtube le scene tagliate via sì sì perché comunque ecco c'è tanto set in più anche quindi vedi un pochino più di caratterizzazione di set niente di che però insomma sicuramente quando guarderemo Super Bad Pineapple mamma mia cercheremo la roba unrated sarebbe bello veramente armo cazzo riuscire a vederli insieme non so dove andremo a finire ma tanto avanti che arrivino cioè ce n'è un po' nel frattempo riusciamo a organizzarsi speriamo e poi quando vanno alla speed date appunto sì ci sono tutte queste in pausa pranzo poi tra l'altro che lavoro è che in pausa pranzo riesce vabbè cioè vabbè e quella camicia elegante e c'è tutte le tipe al tavolo fanno lo speed date cioè quella lì a me mi ha fatto morire quella Gina Gina che vuole dice tipo tra l'altro c'è lineamente anche i femminili magari ti faccio un po' di tucking ti metto no il cazzo dice voglio voglio tornare sul pogo stick dal pogo stick e lui tipo magari in imbarazzo poi c'è la tipa con la puppa di fuori lui che prova si fa tipo si copre e poi c'è Mindy Kaling che è la tizia indiana è la ex di Dave e lei è una tra l'altro tra le attrici di The Office ed è una sceneggiatrice di The Office ah pensa te quindi butta di fuori questa cosa qui poi soprattutto Dave gli dice tipo dai ti ricordi quando abbiamo fatto l'amore e dici ma che schifo ma perché devi di queste cose anche lei tipo perché mi vuoi dire le volte che abbiamo trombato lui è questo questo incontro lo veramente lo distrugge David non ce la fa più eh no va proprio esce di cervello che lui è innamorato perso di questa qui al punto quasi da essere uno stalker cioè nel senso lei ha dovuto cambiare residenza ha dovuto cambiare il numero di telefono l'email e nonostante tutto lui di Obono ancora non se ne è fatta una ragione e la continua dopo due anni due anni infatti c'è Seth fa proprio questa scena che lui si scambiano tutti vado avanti alla tipa e gli fa tipo te la devi smettere di far star male il mio amico e gli fa tipo ma che cazzo dici cioè mi sta stalkerando da due anni ho cambiato email e lui fa tipo ok non lo sapevo ti chiedo scusa bellissimo allora ah cazzo questa cosa qui quando tornano dallo speed date la tipa dj del neo si si trova la sua card cioè ovviamente lui per non farsi sgamare dà la colpa a Steve Carell gli dice tipo la mia compagna ha trovato la tua card dammi una mano cioè gli fa proprio il cenno con gli occhi tipo paramilculo no e c'è Carell che gli risponde malissimo tipo your bitch is che devi tenere al guinzaglio la tua troia la troia poi fa tipo no I'm saying che mi fai e hai riconosciuto chi è lei no Armo no è la tizia oh si si quella la super bad dell'Eminem dell'Eminem si 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 io ti ci sono impazzito quando l'ho visto tipo assomigliava a Eminem assomigliava a Eminem è vero è vero cazzo ma mi hai detto un flash proprio mi è venuta lì davanti cazzo cazzo è proprio una crew e infatti questa cosa mi fa aggasare che sembra di vedere una famiglia family che si riunisce cioè ritornano collaboratori sceneggiatori registi ma soprattutto attori gente che magari si conosce da quando erano più ragazzini e qua è un po' esplode il tutto cioè tutta la il frat pack di Apato e tutta questa gente qui inizia a intrecciarsi mi fa un fottare poi Jonah Hill arriva Jonah Hill e vabbè lì è un personaggio incredibile cioè veramente in un minuto di scena riesce veramente a far capire già i suoi intenti è bravissimo è bravissimo non capire che non vuole che non vuole capire che in questo negozio non c'è la possibilità di comprare le cose direttamente e lui tipo ma io volevo queste belle scarpe cioè tipo queste scarpe assurde a drag queen col tacco dentro c'è il i pisci rossi io vorrei solo portarli a casa e indossarle poverino è proprio tenero che poi lui sembra più piccolino ma in realtà è parecchio grande infatti quando farà Superbad lui è il più grande tra tutti loro tra Michael Sera Chris Mitzplast insomma McLovin è quello che è più grande però sbarbato dimostra comunque può sembrare effettivamente un ragazzino ovviamente grande e grosso però c'ha la faccia dolce c'ha la faccia da anche perché se ci fai caso quando uno è in sovrappeso risulta essere sempre più giovane dell'età che ha hai lineamenti più morbidi sì perché è tutto stirato capito quindi infatti se guardi anche dopo quando è dimagrito tanto in 21 Jump Street per dire cioè lo vedi già che è adulto è un po' è scavata la faccia però è molto più presente il fatto che sia più grande ecco stona anche quando vanno alle superiore al liceo cioè lo vedi ti dicono quanti anni hai infatti ha senso lì perché deve essere proprio pesce forza sì sì esatto ha proprio senso e a questo punto c'è una delle mie scene preferite che è quell'improvvisazione infinita tra Seth Rogen e Paul Rudd sul sai come so che sei gay bellissimo che poi la continueranno cioè tipo anche quando fanno molto incinta se non erro negli errori ci sono loro due che continuano a fare questa cosa sì davvero non finisce più cioè proprio è una cosa che continuano a dir tipo sai come so che sei gay perché c'è uno sticker che dice mi piace quando mi mettono le palle in faccia ah questo è gay che poi è ganso perché quella scena lì loro a casa di di Andy stanno giocando a Mortal Kombat parte questa scena I know how you're gay eccetera però il problema è che parallelamente c'è Trish che ha praticamente chiesto di uscire a Andy e loro sono in paranoia perché non vogliono che lei la prima uscita veda la casa di Andy perché è piena di giocattoli e dice ma che cazzo di impressione farai con tutti sti giochini così e quindi gliela svuotano sì devi togliere tutto quello che non è sexy stacco si vede vuoto e lei lo viene a prendere così e vede la casa vuota e gli dice ma che stai facendo posso entrare fa no no devo cambiare il tappeto ma no mi piaceva quel pavimento quel parchet forse dovrei togliere il parchet e vedere se sotto c'è un tappeto comunque lì si pianta il semino per usare un'espressione di Seth per poi il malinteso che lei arriva a un punto in cui effettivamente pensa che lui sia un serial killer perché dice non hai mai cambiato il tappeto mi hai detto un sacco di bugie chi sei perché a me non mi trombi però hai la casa piena di schifezze di pornazzi di oggetti sessuali è vero comunque il primo il primo appuntamento subito insomma fiamme fanno fiamme vanno lì a mangiare il teppaniachi poi tornano a casa e c'è la scena veramente esilarante di lui che dice la trombata dei goldoni cioè io lì veramente sono morto che se li gonfia se li schianta sui coglioni cioè ne apre 470 solamente sul braccio tipo gli dice ti spiace se uso quelli magnum e lei no no certo e poi ovviamente arriva la figliola con il suo compagno e lì vede lì con tutti i preservativi sparsi e fa dude teach me insegna sembra proprio una cosa tantrico non lo so ma ha dato proprio quel vibe lì è bellissimo veramente tra l'altro lei è la figliola e Kat Dennings super giovane che gnocca che boh era gnocca e tra l'altro lei oltre vabbè alla serie two broke girls che non l'ho mai vista però compare in vanda vision compare in thor ah pensa te sì infatti mi ha fatto ridere quando le dà spider man come regalo gli dà un action figure insomma mi ha fatto ridere per questa cosa però no no ma nel senso ovviamente ancora non era non era entrata nell'mcu però sono cose che sono cose comunque è perfetta a fare la teenager in crisi quando si mette a piangere a urlare con il mascara sbavato sì tipo ma perché non mi fai fare sesso tutti i miei compagni fanno sesso e lei dice perché non voglio che tu faccia gli stessi errori che ho fatto io ah quindi io ero un errore no tua sorella è un errore che poi è proprio da lì dopo questo incidente che cioè è la stessa Trish che dice a Andy guarda è meglio se aspettiamo per la parte fisica lui non gli par vero cioè è il suo sogno che dice facciamo per cinque appuntamenti no dieci ma facciamo venti capito ma guarda che molti maschi dicono così e poi dopo il secondo non ti credere cioè anche quando sono lì che limonano e poi dopo diciamo lui inizia a chiacchierare un po' meglio con la figlia piccolina gli fa il gioco di magia praticamente stanno limonando dice tipo quindi questo è il primo appuntamento no 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 dal prossimo dal prossimo cioè lui cerca di allontanare il più possibile nel tempo la volta in cui chiaveranno eh sì poverino e nel frattempo lui al lavoro dice ovviamente che frequenta questa però è sempre che è sempre vergine lo sanno tutti e lo sa la sua capa mamma mia che ci prova quella scena e gli canta la canzone no del giardiniere guatemalano 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 grazie che poi gli dice tipo sì io avevo tipo a 14 anni avevo lo stesso corpo che avevo ora che scrive te lo immagini e lui no non voglio imparazzatissimo infatti guarda purtroppo lei gli chiede insomma di essere la sua scopa amica e lui no no ma io frequento una sì ma quindi ora non sei più vergine non mi piace parlare delle cose personali ok sei sempre vergine sì sì cazzo e tra l'altro lui viene promosso anche nel negozio proprio per le sue abilità di venditore a floor man il problema è che poi non è un problema perché si rivelerà un bel twist è che si apre la sua posizione cioè Seth Rogen viene promosso al ruolo che faceva prima Steve Carell quindi scartoffi eccetera però il posto da trasportatore si libera e quindi c'è Seth Rogen che fa le interviste cioè no le interviste i colloqui di lavoro quindi infatti effettivamente c'era una dinamica diversa tra loro cioè quindi prima era Steve Carell che si occupava di queste cose qui anche di quindi probabilmente ha assunto lui Seth è probabile quindi grande visionario insomma Steve Carell è vero e Seth Rogen che assume quella gnocca lì mamma mia che cazzo è questa topa non lo so e tra l'altro hai visto che Seth lì fa la risata come Ronnie Barnard cioè la risata che poi agita la mano tipo che lei dice tipo sì sei super qualificata non come questi altri stronzi tra l'altro lei veramente non sa fare niente però lo scopo di Seth Rogen cioè mega best friend cazzo è quello di assumere la gnocca per poi farla bombare a David al suo amico per farlo ritirare un pochino su grande dopo di gli odici guarda io l'ho fatto per te cioè se no io avrei assunto uno di 150 chili alto 3 metri che alza gli schermi e i piatti come se fossero dei monomonetine e invece ho assunto una topa alta un metro e cinquanta che non alza un ipod è vero e c'è la dinamica dopo che continuano appunto gli appuntamenti e c'è un dialogo anche bello fra loro due fra Trish e Andy e Trish gli fa insomma che sogni hai cioè vuoi lavorare per sempre lì e viene fuori che Steve Carell dice no a me piacerebbe aprire il mio negozio però non ho soldi per farlo e lei gli dice no scusa perché non vendi tutti i tuoi giocattoli insomma le tue action figures così sì gli dice tipo io c'ho un tizio su ebay un G.I. Joe tipo lo vende a una marea no e fa tipo ah c'è no tipo 27 e quindi lui in un certo senso grazie anche a questa donna si distacca da quello che è stata tutta la sua vita e cresce che questa cosa qui è utile perché poi dopo quando si creeranno dei contrasti tra di loro lui ce l'ha a morte con lei cioè gli rinfaccia quasi questa cosa e sembra un po' una bastardata per dire tipo cazzo te mi fai buttare via le mie cose e te ti viene da di cazzo no hai consentito anche te a farlo in realtà lui non sta parlando di quello sta parlando della sua virginità sta parlando mi volete forzare a fare una cosa che non è non sono io crea questa dinamica interessante cioè il suo attaccamento alla vita precedente con gli action figure eccetera è collegato anche alla vita precedente da vergine ma non nel senso di vergine nel senso di persona che non vuole esporsi non vuole sì che sta buttare sta bene così come sta non vuole cambiare per una cosa che gli fa paura e questo è anche un punto bello che poi è presente in questi film cioè c'è la parte delle stronzate c'è la parte delle cose volgare tutto ma di base c'è una profonda umanità sì c'è situazioni molto molto reali e c'è rispetto nei confronti di un personaggio come Carell non è una macchietta non è ah vediamo per il culo del verginello è vero è il cuore del film è lui e poi anche più avanti anche gli imbecilli come Jay cioè gli dicono tipo cazzo avevi ragione cioè è solo un casino cioè buttarsi a forza a fare queste cose crea solo bordello ovviamente lui lo dice perché è un coglione che tradisce la sua compagna un testo di cazzo insicuro soprattutto come lui stesso poi dirà capito però quindi molti si convertono quasi al modo di vedere di Carell e c'è una scena in più ci sono un po' di scene dove vediamo Seth Rogen che parla con Jane Lynch la capa insomma quell'attrice lì che è un mio merda no scusa mi stava cascando al microfono e praticamente con la tizia lì guatemalteco e lei dice tipo ma secondo me comunque lui è un genio cioè secondo me o ci sta prendendo per il culo tutti oppure lui è un genio e è la svolta cioè secondo me lo interpretano anche in questo modo che forse ha ragione lui è un visionario è un visionario ha capito tutto scusa vado un attimo a pisciare vai tranquillo Armo è quello che vuoi sì sì tanto poi la tagli ok bellissimo era l'intermezzo musicale hai fatto bene hai fatto bene ce lo lasciamo comunque scatto c'è proprio un ritorno adesso del pop punk tra Machine Gun Kelly poi c'è Mod Sun con Avril Lavigne tra l'altro Let Go me l'hai masterizzato te sì sai come so che sei gay perché me l'hai masterizzato Let Go scherzo è una bomba mamma mia è eterno quel disco lì però sì c'è un po' questo ritorno al pop punk ora al di là di loro che per carità mi garba la proposta mi garba la musica non mi piace assolutamente il look e il messaggio che trasmettono perché anche basta nel senso se avete 35 anni fare gli adolescenti depressi anche no però sicuramente è una cosa che attira un sacco di ascoltatori però non stiamo parlando di loro stiamo parlando del ah no aspetta visto che stiamo parlando parentesi mi è rivenuto in mente stavamo parlando di vendere le action figures ragazzi io ho un sacco di carte magic c'è un sacco di carte dei pokemon ma non sappiamo quanto valgono quindi aiutateci dateci dei suggerimenti dove venderle perché magari sono roba bomba non so così poi le vendiamo e apriamo un negozio di elettronica comunque ci facciamo i soldi e poi si fa un film potrebbe essere un'ottima idea stai fumando Ico? sì sì ci vorrebbe un cecchino comunque allora ovviamente Kat Danny insomma la figlia topa super in crisi allora la porta in clinica un consultorio dove c'è tra l'altro la moglie di Steve Carell che fa la tizia del ma è lei davvero? è la moglie vera di Steve Carell ma non ci credo che gnocca compare in the office vabbè comunque fa le domande la sessuologa sì che spiega le alternative al sesso insomma c'è il petting dry uping dry uping come sta sul cazzo che il bimbetto è brevo ti giuro poi il bello su babbo che dice c'hai il cazzino smettila il mio classico venerdì sera mi faccio fare pompini ma che cazzo dici che si va al tempio imbecille intanto si chiama Seth quel bimbetto è vero io vorrei che non lo so un alter ego di Seth Rogen super arrafato magari sì e quei modelli del corpo umano quanti erano inquietanti? no vabbè c'è la scena che lui lo prende lo apre ma dove va il pisello? ve lo devo mettere che effettivamente è inquietantissimo visto così al liceo era pieno nell'aula quella di scienze c'era queste cose le aprivi di obolo che c'era dentro sì ci travi dentro una fetta di tacchino vabbè e quindi paradossalmente è Andy che fa più domande di tutti perché è quello curioso di sapere queste cose perché poverino non lo sa quali sono queste alternative tutti lo vogliamo sapere e lei e Marla capisce che lui è vergine sì e lì inizia a sciogliersi un po' nei suoi confronti perché capisce che non è un testa di cazzo esatto testa di cazzo non è un viscido però gli dice insomma diglielo poi a mia madre cioè quando ha intenzione di diglielo però e lui fa ci sto lavorando però a te non glielo non glielo dire non glielo rivela quindi insomma è bella questa parte è bella sì è molto infatti gli dice guarda gli ho detto apposta così almeno non ti davano più più noia a te perché ovviamente lei appena dice che è vergine e tutti quanti mongoli e lei fa tipo no no ho capito che era vero e dice vado a scuola con 400 ragazzi mi voglio un tromballo so chi l'ha fatto e chi no è bravo quindi c'ha proprio il confronto ideale con proprio il classico maschio de merda con la fregna con l'adolescente arrapato con la fregna tipo attaccata sulla fronte come clip di i migliori tra i roulant bene poi dopo al lavoro c'è c'è la scena dj che presenta tutti l'ecografia del suo figliolo la tipa dj l'aveva lasciato sì perché si era accorta lo cadiva eccetera e tutto invece lui dice è un bravo padre lo lascio era una scelta giusta forse era la scelta giusta esatto però lui che presenta il figliolo e dice questo è il mio figlio questo è il pisello di mio figlio cioè enorme molti dico ma quello è il piede e fa no no questo è il cazzo cioè immaginatevi poi a 30 anni cosa diventa e c'è quell'indiano che gli dice tipo every dick looks big on a 40 inch tv my sister dick is bigger uguale terribile e quindi poi jay vuole fare un party per festeggiare questa notizia della sua compagna incinta sì il party si svolge parallelamente anche al ventesimo appuntamento fra jay che e jay scusa è stilcarella è lì il casino il casino perché arriva il momento che non puoi più rimandare è passato tanto tempo sei riuscito a posticipare questa cosa più che potevi però è arrivato il momento che lo devi inzuppare e lui va in crisi cioè proprio esce c'è il calendario non so se ce l'ha lui o se ce l'ha lei dove c'è il countdown proprio e secondo me lui ha il terrore di questo conto alla rovescia e tra l'altro nel calendario c'è scritto su un giorno ho fatto caso che c'è scritto cable guy sì è il tizio del come si dice della parabola della televisione e poi ho pensato tipo forse c'è un easter egg è una strizzata d'occhi perché the cable guy è il rompiscato è quello con Jim Carrey che è prodotto da Apato ah ma davvero sì sì per lì mi è venuto un bisognerebbe vedere se quel giorno era la data di uscita di quel film ti immagini cazzo sarebbe veramente una bomba quante sorprese e c'è il litigio ah giusto litigano a bestia per il discorso che te mi fai vendere tutte le mie cose mi vuoi cambiare io non sono così la mia vita mi piace così com'è non voglio cambiare e litigano pesantemente lui scappa e va a questo party del figliolo del suo collega sì di cui si ubriaca il peso lì secondo me improvvisa perché Seth Rogen è accanto a lui e non sa cosa dire cioè si vede proprio è sta morendo perché c'è Karel tipo che discorre non mi ricordo cosa gli fa tipo gli dice quanti pot ti sei fumato e lui fa ma che stai parlando e poi arriva Jay e lui si alza tipo comunque la mossa eh motherfucker bellissimo e tipo lo abbraccia gli fe lo bacia gli dice avevi ragione avevi ragione tutta una stronzata ora vado a cercare la figa quindi trova ovviamente la nostra amica come cazzo si chiama quella di Zack e Miri sì Elizabeth Banks Elizabeth Banks lui trova lei e allo stesso tempo David praticamente va con la nuova assunta da Seth Rogen che gli schicchera i coglioni a polradro piglia schiaffi tira una sciaffata di obono lì è vera poi un pugno nei coglioni poi gli tira i capelli è un grande è un grande è veramente cioè non è l'amico che appunto come potrebbe essere Jay che fa tutto tranne che aiutarti perché non si mette nei tuoi panni ma è convinto che il modo in cui lui approccia le tipe è quello universale ok sì cioè e quindi il suo modo lo devono applicare tutti e così funziona no invece cazzo Seth Rogen è il migliore di tutti perché è proprio l'amico spalla è quello che l'amico spalla è la guida è la guida è lo spirito guida lo scerpa bravo e poi c'è anche quando conversa lui con Steve Carell cioè non lo piglia per il culo gli dice proprio chiaramente guarda io pensavo veramente tu fossi stato un serial killer pensavo mi stavi sul cazzo non ti parlavo scusami se ti ho trattato male in passato gli dà i consigli e quando lui gli dice tipo guarda lei ha questa Trish ha dei figli era sposata cosa Jay dice tipo ah no è un casino poi metti caso che il suo ex marito ha gli amici in prigione e escono ti stalkerano e ti sparano che cazzo dici no non ti devi invischiare in queste cose invece Seth è lì che gli dice tipo cazzo è una nonna quindi figlia bene cioè bomba è una nonna figa cioè dice mia nonna sembra Jack Palance è il cattivo dei Batman di Tim Burton ma davvero non il Joker ovviamente è il classico milionario no che ha le mani in pasta un po' mafioso se cerchi una foto capisci e si dice tipo se Jack Palance assomigliasse a Trish mi scoperei a bestia Jack Palance e vabbè comunque a questo par Steve Carell incontra nuovamente Elizabeth Banks e lei va a diritto sì cioè lui è ubriaco era già un po' lei che lo puntava con le sue amiche vedeva mentre lui si incazzava con gli altri e sembrava proprio questa scena di Steve Carell è il maschio alfa sì è vero sì e diceva guarda com'è com'è potente com'è dominante in realtà era mega incazzato perché giustamente se la stava prendendo con questa cerchia di maschiacci che più che altro Jay che abbiamo capito che è la persona che più ci sta sul cazzo in assoluto assolutamente e lo guida nel modo sbagliato lo forza gli gira il cazzo quindi è colpa di Jay no perché è nero no no perché è stronzo perché è un testa di cazzo vuoi essere nero e stronzo è vero l'essere stronzo è il carattere dominante e tra l'altro scusa c'è la parte quei cameoli di Kevin Hart che mi ha fatto morire sì e quello è il motivo perché lui poi si mette a piangere perché è molto teso per il discorso della sua compagna che la lascia tra l'altro appunto quanta gente c'è Kevin Hart è un casino di gente e lì proprio stanno per venirsi sul muso a bussi veramente stanno proprio cioè per per spistolettarsi a vicenda cioè tipo uno dice tipo ah allora fotti con me io chiamo la mia crew ah no allora giustamente lì Steve Carello piglia la disparte e fa ma che cazzo stai facendo e lui crolla si mette a piangere tipo sto freddo un beccello mongolo c'è quella battuta lì che fa quell'altro impiegato lì di SmartPak che dice il meteo oggi black with a chance of drive by sono morto poi sono cattivissimi loro cioè continuano a dire tipo fuck you fuck you fuck a goat ma perché mi dice sempre di scopermi una capra fuck a goat e poi mi dice tipo ma quando il tuo figliolo esce dalla pancia è già tipo un parole comunque litigi vari set alla festa briao che vabbè parte set con quella la catena anni 2000 il numero di tatuaggi cioè proprio un figo stavaggi finti Steve Carell quindi va a casa di Elizabeth Banks completamente devastato dall'alcol dice vaffanculo io vado lì ho litigato con Trish e dovrò trombare solo che lei si rivela veramente è un altro livello cioè è un altro livello ma proprio a livello anche di mentalità cioè proprio è una è una pesa cioè il giusto set roguin la può tenere a bada probabilmente infatti lui perché è ma poi sicuramente nel senso più che essere di fuori a livello sessuale magari è super scatenata cioè però in generale nel momento in cui lei loro sono libri ai che flirtano così lei a un certo punto gli infila la lingua in bocca e è da lì che lui capisce cioè non è che tanto il problema è lei che è fuori di testa è che lei non è Trish e lui cade un po' dalle nuvole e dice tipo ok non dovrei essere qui sì perché si rende conto che alla fine le cose che prova con Trish non le trova da nessun'altra parte perché è innamorato poverino alla fine nel senso e lei è la classica una botta e via lui non è per queste cose infatti c'è la scena in cui sono nel suo bagno e lei si spogliano diceva ora mi riscaldo per te con il telefonino della doccia e lui dice ho paura hai già provato l'opzione premium di Sborrify la nuova applicazione social che ti permette di seguire tutti i tuoi contatti nell'intimità della masturbazione tagga i tuoi amici e rendili partecipi di ogni tua sega condividi con i tuoi amici ogni playlist da schizzo e con l'abbonamento riceverai in omaggio le password per i migliori siti porno in circolazione Sborrify tutto il mondo del porno a portata di click e tu ti stai già segando si 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 intanto gli dice no fai bene a scaldarti mi pare ti viene un crampo è terrorizzato e i suoi amici che l'hanno visto andare via dal locale con lei l'hanno seguito e che si dice no ma come vanno preoccupati tipo Jay dice me la sono bombata tipo otto mesi fa e ho la chiave la sperpita c'è un paio di chiavi c'è veramente veramente un merdoso dice no comunque è troppo troppo pesa lei no no eravamo preoccupati per te però ho capito gli dicono eravamo preoccupati per te Trish e quindi ti abbiamo seguito e di conseguenza vogliono che lui vada da lei non faccia stronzare e Seth rimane dice si si dobbiamo andare dobbiamo andare via dobbiamo andare via in realtà rimane lì si ignuda e se la bomba e se la bomba bravo bravo lui era quello che l'aveva puntata fin dall'inizio dice va da lì c'è questa nella libreria vai così devi dire così si vede che Seth alla fine forse la conosce meglio di tutti lui con la differenza che lui sa come si parla le fighe e allora è sua è sua quindi grande litigione finale malinteso del serial killer tipo ah quindi cos'è tutto il sitroiai cos'è questa ai rufis tipo cioè è una droga è una mentos no è una mentos they're the fresh maker mi piace che lui precisa e quindi Trish terrorizzata fugge scappa a che facco è un psicopatico serial killer tipo alla head gain lui la insegue con la bicicletta e c'è questo incidente clamoroso si sono quelle cose portate all'estremo ovviamente cioè uno lì potrebbe dire sono vergine fine però lì ci vuole proprio la scena finale con la musica che sale lui che la insegue no che urla e poi è bellissimo che ritorna il cartellone pubblicitario no si è vero quello che la tormenta esatto fin dall'inizio e lui ci schianta dentro e mi piace tantissimo quando dice quel cartellone aveva due lati entrambi facevano malissimo allo stesso modo e lì c'è la rivelazione poi della sua verginità che tra l'altro c'è quella frase che dice che io veramente lì mi sono sciolto e dice il motivo per cui finora non l'ho mai fatto è perché aspettavo una come te sì e lì proprio vedi vedi perfetto cioè forse per una persona come lui era esattamente ciò che gli serviva cioè non aveva bisogno di trombarsi mezzo mondo come gli dice quel cretino mongo te ne devi scopare a rosa una di fila all'altra proprio del fruttanelle e poi vai da lei sì che fai a me fai pratica così arrivi da lei fa bella figura cioè proprio maschilista è la stessa cosa che gli dice Seth Rogen ma lui gli dice tipo perché perché all'inizio farai cagare quindi devi allenarti di modo che poi quando arrivi con quella che ti piace davvero farei meno cagare è mediocre quindi è anche realistico no e niente però insomma la situazione tutto è bene ciò che finisce bene perché insomma loro finalmente si sposano anche il prete gli dice vi prego consumate questo matrimonio e tra l'altro si sposano perché viene fuori che Andy vendendo i giocattoli ha fatto tipo 500 mila dollari una cosa del genere quindi mega matrimonio tutto bomba così e loro subito dopo cioè di giorno loro vanno subito in camera di solito dicono è la prima notte no allora è il pomeriggio il pomeriggio col tizio che pulisce il futuro praticamente col tizio che pulisce i pavimenti che tra l'altro non mi vorrei sbagliare mi sembra che sia in super bad quello lì che pulisce i pavimenti quando rompono le birre ma lo sai che forse hai ragione mi sa che è lui il commesso del liquor store ora lo cerco e comunque insomma gran festa di nozze io tra l'altro la mia prima notte di nozze vi posso rivelare che ero completamente ebriao non c'è stato verso cioè non avevo proprio neanche la mentalità per capire cosa stava succedendo intorno a me bello così e poi c'è la prima bombata di Andy che dura un minuto sì e la seconda che dura tipo un'ora 12 ore e poi il finale col balletto con la canzone mamma mia setta torso nudo ma dietro tra l'altro c'è Jonah Hill mentre lui balla mi sembra poi c'è Paul Rudd che fa lo scatto non è che caga la gente fa tipo e il finale è veramente incredibile sembra un po' tipo Midsommar che c'è i balli l'ho detto uguale l'ho detto uguale con tutti i rappi sembra un Midsommar e per lì ho detto tipo cazzo cazzo e poi fine finisce così un film meraviglioso veramente tenero comico profondo proprio bello non è un film banale per niente no 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 io guarda mi è spiaciuto non non averlo cagato all'inizio perché mi ero legato un po' troppo a quel luogo comune che fosse una cagata da cassetta una cosa appunto che lui è vergine una la tocca si sborrerà nella faccia fine in realtà ci sono chiaramente tutte le cose ghiozze ma c'è tanto di più poi è anche un film bello lungo Apato se non fa film di due ore non è contento ma è giusto almeno approfondisci cazzo e poi Carelli giustamente poi conclude questo film con un bello stage diving contento festeggia con gli amici quel cretino dj e niente questo è bello bello mi è piaciuto grande mitico esordio grande inizio e si questo joseph nunez che è il tizio del liquor store di super bad è 40 year old virgin man buffing floor oh ok mi sembrava grande grazie mdb che ci ha aiutato per questa cosa quindi niente ci è piaciuto molto è proprio un inizio un bel trampolino per set sinceramente io ora non mi ricordo quale sarà il prossimo film di cui parleremo ma lo andrò a vedere subito andiamo subito il prossimo sarà del 2006 credo che qui set faccia una parte di spalla ma alla fine anche in super bad non è protagonista ma era una bella parte il prossimo film è you me and dupree che io non ho visto non l'ho mai visto neanche io con man stiller quindi sono molto curioso perché non so niente di questo film nemmeno io scatola chiusa ci entro da così puffandomici a bomba senza sapere se il fondale è basso o meno bello Armo mi ha piaciuto un sacco è stato interessante fare questo podcast a distanza speriamo di non farne troppi speriamo davvero di non farne troppi rivederci dal vivo però niente cosa cosa possiamo dire noi come sempre ragazzi ascoltatevi il podcast condividetelo lasciateci un bel commentino una recensione per darci ancora più voglia di proseguire a fare questo appuntamento che è divertentissimo se avete degli amici che conoscono Seth Rogen che gli piace questo tipo di argomenti o magari gli piace anche solo il film in questione di cui stiamo parlando in questa puntata condividete la puntata con loro fatigliela sentire perché insomma siamo sicuri che potranno utilizzarla come sottofondo mentre fanno altre cose Armo io ti mando un caro abbraccio anch'io speriamo di rivederti presto è tutto un po' così bisogna avere ancora pazienza e speriamo che col tempo si esca fuori da questo incubo che ripeto mille mille volte secondo me era meglio un'apocalisse zombie se non altro sì almeno sparavi un po' di gente capito era tutto un pochino meno col ferro esatto drive by drive by e un bacione ti voglio bene anche io mi so che sono gay che ho detto mi so che sono gay perché mi hai detto che mi vuoi bene allora che buono sera tu allora un bacione un bacione Xen ci sentiamo tanto in questi pomeriggi questi giorni va bene ciao Armon ciao 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 mi manco ciao